You Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui tornati per il round numero 3 di questa terza stagione nella nostra carriera su F1 Manager 2022 con la McLaren, GP d'Australia all'Albert Park. Ovviamente se non avete visto l'ultimo episodio, il round numero 2 della stagione, il Saudi Arabian Grand Prix, cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio. Veniamo da un episodio che ci ha portato soddisfazioni da una parte con un Lando Norris che ha terminato al terzo posto sul podio confermando il buon inizio da parte nostra e invece una grande delusione con uno Charles Leclerc che invece ha terminato con un DNF did not finished per colpa di un incidente, anzi ben due incidenti durante la sua gara e purtroppo zero punti portati a casa con una bandiera rossa anche che non vedevamo veramente da tantissimo tempo. Vediamo se riusciamo ad invertire la rotta con il pilota monegasco, se riusciamo a confermare i buoni risultati con Lando Norris. Ovviamente, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel mi piace per supportare la McLaren, commento qui sotto. Se volete lasciate anche il vostro pronostico per la prossima gara, round numero 4, Autodrome Internazionale Enzo e Dino Ferrari per l'Emilia Romagna Grand Prix, il Gran Premio di Imola, un circuito naturalmente storico. Lasciate il vostro pronostico e ovviamente, se siete nuovi nel canale, come sempre, vi invito a valutare l'iscrizione e nel caso attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti del canale. Detto questo, non perdiamo altro tempo, andiamo ad indossare le nostre cuffie adatte in principle, continuiamo e andiamo a impostare gli obiettivi prestazionali per questo fine settimana di gara. Impostati gli obiettivi prestazionali, scendiamo in pista e inizia il weekend di gara dell'Australian Grand Prix. Benvenuti a Melbourne per un weekend di spettacolo. Siamo vicini alla spiaggia, qui al circuito di Albert Park. Il pubblico sulle tribune festeggia, ma nel paddock la tensione e l'aspettativa sono alte. Il circuito di Albert Park è un tripudio di curve veloci, con un rettilineo che permette ai piloti di spingere al massimo. Tenere d'occhio la deportanza alle medie velocità sarà la chiave per domare questo tracciato davvero molto insidioso. Anche se la stagione è appena iniziata, le emozioni non danno un attimo di respiro. In questa fase non c'è ancora nulla di certo e tutto può accadere. Che il weekend abbia inizio! Ed eccoci pronti per l'inizio di una domenica, no, per l'inizio del weekend, ma la domenica è prevista pioggia, quindi molta attenzione. Proseguiamo e andiamo subito ad impostare i setup delle vetture, compresi i componenti della vettura per Charles Leclerc, che li ha rovinati nell'incidente del Saudi Arabian Grand Prix. Ci siamo impostati i setup delle vetture. Jack Doohan alla guida al posto di Charles Leclerc stavolta. Scendiamo in pista e iniziamo il nostro venerdì di prove libere. Radio check. Copy radio check. Session should be starting now. La session è pronta ad iniziare. Scendiamo in pista con entrambi i nostri piloti con le gomme bianche. Noi ovviamente, come sempre, ci rivediamo direttamente per l'inizio del sabato di qualifiche. Ci siamo, siamo pronti per l'inizio del sabato di qualifiche qui all'Albert Park. I risultati delle prove libere PL1 con Verstappen, Sainz e Russell, Norris in sesta e Jack Doohan in diciottesima. PL2, Russell, Gasly, Norris con Charles in sesta posizione. PL3 con Norris in settima. Charles in tredicesima. E c'è Valtteri Bottas che già ha una penalità da dover scontare, di sicuro per l'incidente al Saudi Arabian Grand Prix. Presuppongo per modifica dei componenti, per sostituzione dei componenti. Proseguiamo. Assetti entrambi al 100%. Perfetti anche questo fine settimana. Questo è l'assetto di Charles Leclerc. Questo invece è l'assetto per Lando Norris. Andiamo ora a impostare il setup delle vetture, modificando i componenti, soprattutto per la vettura di Charles Leclerc. Ci siamo modificati i componenti solo sulla vettura di Charles, mentre lasciamo quelli già utilizzati nelle due gare precedenti per Lando Norris. Gomma rossa montata. Scendiamo in pista e diamo inizio al nostro sabato di qualifiche. Radio check. Radio check, ok? Radio check completato. Aspettiamo qualche minuto e poi scendiamo in pista per il nostro giro in questo Q1. nuvolosa tutta la sessione, ma non sembra che arrivi la pioggia. Mancano 7 minuti al termine della sessione, ma andiamo in pista Lando Norris e subito a seguire Charles Leclerc per il nostro giro, sperando che sia l'unico giro di questa sessione. Lando Norris sta andando a chiudere il suo giro. Vediamo che tempi stiamo facendo, perché Leclerc è rimasto un po' bloccato alle spalle del compagno di squadra nel giro. E Norris quindicesimo con Charles invece in sesta. quindi Norris ancora una volta deve scendere nuovamente in pista per tentare di migliorare perché purtroppo il suo giro non è all'altezza e anche Leclerc secondo me ha perso qualcosa. Ma il suo tempo è comunque buono per passare il turno. Abbiamo il tempo contato con Lando Norris che scende in pista due minuti dal termine della sessione. Dovrà essere un giro di lancio piuttosto lungo. Siamo in, piuttosto veloce scusate, siamo in coda al gruppo. Abbiamo lasciato le gomme usate, speriamo bene, non siamo gli ultimi. Quindi il tempo lo avremo per effettuare il nostro tentativo. Lando sta andando a chiudere, non ha migliorato nel primo, sta migliorando nel secondo settore che dovrebbe essere quello che è stato lento in precedenza. Norris si mette in undicesima comunque, ma tempi molto molto stretti. Passiamo il turno a 666 millesimi, non un bel numero sicuramente, da Verstappen. Settima posizione per Leclerc invece, andiamo a vedere la gradatoria. Verstappen-Sainz-Perez con Leclerc in settima e Lando Norris in undicesima posizione. Proseguiamo, andiamo subito a montare ovviamente le gomme usate per entrambi i nostri piloti, compreso per Lando che però ha una gomma usata per due giri. Avviamo le nostre qualifiche, scendiamo in pista per l'inizio del Q2 e mandiamo subito in pista Lando Norris con pista libera se possibile, però passa prima una Mercedes, quindi Norris e Leclerc praticamente insieme. Purtroppo Charles Leclerc si ritrova un po' bloccato alle spalle del compagno di squadra perché sono usciti in pista veramente molto molto vicini. Devo cercare, se possibile, di farli distanziare. Sta andando a chiudere Lando Norris il suo giro con alle spalle Leclerc un po' bloccato, provato senza prendere la guida manuale a far distanziare Leclerc da Norris e sicuramente i tempi non sono buoni perché comunque Norris ha 8 decimi, ha poco meno di 7 invece Leclerc che è rimasto un po' bloccato, dobbiamo sicuramente migliorare con la gomma nuova. La prossima volta, se i nostri due piloti saranno così vicini tra di loro, dovrò assumere il controllo manuale per far rallentare almeno uno dei due e farli distanziare. Ci ho provato senza, è stata una prova. Pian piano comunque miglioriamo anche dal punto di vista di questi piccoli particolari solo acquisendo così esperienza e provando. Mancano quasi tre minuti al termine, scendiamo in pista ora con Charles Leclerc e aspettiamo qualche secondo e poi Lando Norris subito a seguire. Abbiamo bisogno di pista libera per fare il nostro giro. Attenzione perché Norris aspetta che passi anche la Mercedes di Lewis Hamilton, ma comunque in terza posizione, diciamo, tra quelli che scendono in pista c'è abbastanza spazio tra i piloti. Noi siamo nelle ultime due posizioni, quattordicesima e quindicesima, quindi dobbiamo nettamente migliorare i nostri tempi. Leclerc sta andando a chiudere, ha migliorato nel primo e non nel secondo settore. Aveva fatto fucsia con la gomma usata, ma si mette in prima posizione. Charles Leclerc da più di due decimi a Max Verstappen. Ora ha potuto veramente sfruttare pista libera. Lando Norris si mette in quinta, comunque salvo, a tre decimi e mezzo dal compagno di squadra e i nostri tempi, sì, sono abbastanza tranquillo. Passiamo il turno, Leclerc è secondo con Verstappen che lo ha battuto di poco e anche Sainz che si mette in seconda. Sono tre piloti nel giro di 36 millesimi, Verstappen, Sainz e Charles Leclerc. Passiamo il turno, Verstappen, Sainz e Leclerc con Norris in settima. Gli eliminati, Hamilton, Magnussen, Ricciardo, Guanio e Joe e Bottas con Stroll Albonz, uno dalla Tifi e Schumacher, gli eliminati nel Q1. Proseguiamo e siamo pronti a scendere in pista per l'inizio del Q3, ma naturalmente per il primo tentativo è gomma usata per noi. Avviamo le qualifiche e gestisci qualifiche tre. Aspettiamo, andiamo prima a vedere il meteo, non c'è rischio di pioggia, Leclerc stavolta davanti a Lando Norris. Scende prima una delle Alpine a seguire su Charles Leclerc, proprio Lando Norris. C'è stato un testa a coda da parte di Lando Norris, non andiamo a vederlo. Leclerc sta andando a chiudere il suo giro. Norris è comunque riuscito ad iniziare il suo giro, perché comunque il testa a coda l'ho avuto prima di iniziare il tentativo, quindi non dovrebbe aver creato problemi appunto nel suo giro con questa gomma usata. Charles Leclerc si mette in prima con meno di due decimi di vantaggio suo, con Perez invece un po' più lontano, o è l'Alpine molto forte, oppure è Leclerc che naturalmente non ha fatto un gran giro con la gomma usata. Norris ha otto decimi, quindi sì, qualcosa ha inficiato comunque nel suo tentativo. Leclerc quinto, Norris in decima, ma andiamo Norris stavolta con pista libera, mentre con Leclerc voglio aspettare la coda del gruppo. Rischiamo, siamo in quinta posizione, o comunque non voglio le primissime posizioni, voglio dare un po' di vantaggio, ecco, e scende in pista Verstappen, scende in pista Perez e poi scenderà in pista Charles Leclerc. Norris invece con pista libera, con gomma nuova. Come detto, le due Ferrari, Sainz e Russell, le due Alfa Tauri di Gasly e Vettel, poi Leclerc male nel primo tentativo alle Red Bull, sesto Verstappen e nono Sergio Perez. Lando Norris sta migliorando sia nel primo che nel secondo settore, vediamo con che tempo riesce a chiudere il suo ultimo tentativo di questa qualifica, si posiziona in terza dietro le due Ferrari, benissimo, benissimo Norris. Leclerc, andiamo a vedere il suo giro, non ha fatto settori fucsia, primo e secondo settore verde, Verstappen in terza dietro le due Ferrari, andiamo a vedere Charles Leclerc in che posizione si va a piazzare. Leclerc! Leclerc in pole position! Leclerc in pole davanti a Sainz e Russell, con Sainz che ha completato il suo tentativo, sta andando a chiudere Russell e l'ultimo pericolo per noi, quello di George Russell che ha chiuso, ha chiuso il tentativo, quindi è pole position, pole position, prima pole della carriera se non sbaglio per noi, Charles Leclerc partenza al palo davanti alle due Ferrari. E che risultato! Leclerc si prende la pole davanti a Sainz e Russell, Verstappen un po' deludente dopo che ha fatto gli stessi tempi in Q1 e Q2, molto peggio, due decimi nel Q3 ci avrebbe battuto se avesse fatto lo stesso tempo del Q1 e del Q2, Norris in quinta, Perez, Gasly, Vettel, Alonso e Ocona. Pronti? Scendiamo in pista per l'inizio della domenica di gara. Siamo arrivati al giorno della gara, squadra e piloti sono quasi pronti. La McLaren ha firmato una prestazione stellare in qualifica, ora è nella posizione ideale per vincere la gara. La prestazione della Red Bull nelle qualifiche fa ben sperare, ora il team deve sfruttare la posizione di partenza per replicare il successo anche in gara. La gara di oggi si terrà sotto un cielo azzurro, le squadre potranno quindi mettere in atto le loro strategie senza temere complicazioni esterne. Qui a Melbourne si preannuncia una gara ricca di emozioni per scuderie e piloti, vedremo come andrà a finire. Ed eccoci pronti per l'inizio della domenica di gara, per ora c'è il sole ma è prevista pioggia moderata, quindi strategie particolari. Andiamo naturalmente a caricare al massimo il carburante, visto che è quasi al massimo, opzione pilota ovviamente spinta massima sin da subito, e andiamo subito a vedere anche le strategie. Ovviamente con i nostri piloti, prima posizione per Leclerc, quinta per Norris, la strategia sembra da media a hard, ma la nostra strategia potrebbe essere anche quella di partire con la hard, perlomeno con Lando Norris. Potrebbe essere una strategia molto molto valida, però ci sono tanti piloti che potrebbero partire con la hard. Allora, teoricamente la strategia media hard, la hard ci fa non fermare al trentatresimo, quindi forse un po' presto. È più sicuro partire con la media e fare una doppia strategia con la media nel caso, oppure media hard e poi nel caso andare a montare la, effettivamente la gomma hard. Bisognerà vedere naturalmente quanto sarà forte la pioggia, oppure potremmo anche pensare di partire con la soft e poi spingere con la media, però valuteremo. Partiamo con entrambi i nostri piloti con la gomma media e poi valutiamo come comportarci. Pronti per la partenza, gara molto molto importante, visto che è la prima volta, se non sbaglio, che partiamo dalla pole position. Il sole continua a splendere, sembra che nulla possa rovinare l'entusiasmo che si respira in pista. E ora Charles Leclerc. Oggi partirà davanti a tutti, ma riuscirà a difendere la posizione? Norris qui, ancora più indietro. Partendo dalla metà alta della griglia, si trova nelle condizioni ideali. Raccoglieranno il frutto dei loro sforzi? Preparatevi per il Gran Premio d'Australia! Si parte, tre luci, quattro luci, cinque luci, che si spengono immediatamente, parte subito il Gran Premio. Leclerc che scatta bene davanti a Sainz, che prova però ad infilarsi. Vediamo però la traiettoria migliore, c'era proprio Leclerc, e bravo Russell a prendergli la scia e a sfruttarla per provare, a mettere in crisi il compagno di squadra, poi Verstappen, e vediamo Norris, che non è riuscito a mettere sotto pressione i piloti davanti, ma riesce comunque a difendersi da Perez. Sicuramente andiamo un po' più a spingere sul carburante nelle prime fasi, visto che poi potremo gestirlo di più nelle fasi di pioggia, quindi potremo andare anche in negativo, teoricamente, per recuperarlo appunto nelle fasi di pioggia. Vediamo se Norris riesce a mettere un po' sotto pressione Max Verstappen, la strategia sarà fondamentale, ma penso che andremo su doppio set di media, per essere molto tranquilli anche nella gestione delle gomme, medie che dovrebbero funzionare molto bene qui. Vediamo se Charles Leclerc riesce a prendere vantaggio e a togliere il DRS ai piloti dietro di lui. Potrebbe essere una strategia, visto che comunque Leclerc, montando i piezi nuovi, dovrebbe avere delle prestazioni ottime sulla sua vettura. Infatti è già a quasi nove decimi di vantaggio nei confronti delle due Ferrari, della Red Bull di Verstappen e del compagno di squadra Lando Norris. Vediamo, vediamo se riusciamo a fare la differenza. Un secondo adesso di vantaggio di Leclerc nei confronti di Carlos Sainz. Andiamo subito in neutro con entrambi i nostri piloti e proviamo a gestire un po' la batteria e anche la nostra gomma. Non è detto che dobbiamo rimanere con questo vantaggio perché comunque sarebbe difficile gestire bene la nostra vettura, però per ora siamo partiti molto bene. Sorpasso di Verstappen alle Clerc. Giro 5, ci hanno ripreso. Ed ecco qui Max Verstappen. E va al sorpasso guadagnando una posizione in gara. Ora l'importante è tenerne la scia ovviamente con Norris che è molto ma molto vicino a Russell. Io direi di far riprovare quasi quasi il sorpasso nella prossima zona di arresto. Anche Sainz ha passato Leclerc Leclerc che sta riprovando a passare il pilota della Ferrari e Norris che sta provando ad infilarsi. Vediamo se riesce a uscire forte il Lando Norris nei confronti di George Russell. Prova a prendere tutta la scia ma è veloce Russell. È veloce. Attenzione però alla staccata di Norris che non ci riesce però. Non riesce. Quindi andiamo nuovamente in standard. In equilibrata e ci riportiamo in gestione. Leclerc in terza. Sainz che si è preso la prima. Sainz si è preso la prima. Quindi più si rimane così più diventa una gara molto molto combattuta. Siamo le due Red Bull le due Ferrari le due McLaren e le due Alfa Tauri. Ma è un trenino incredibile che ci porta fino a Lewis Hamilton tutta la top 10 nel giro del secondo quindi nel giro del DRS. Lando sta cominciando a soffrire. Giro 12 ha perso il DRS nei confronti dei piloti là davanti con Leclerc che si è preso la seconda posizione nei confronti di Verstappen e continua a mantenere la scia di Sainz. Norris deve cercare di rimontare là davanti nei confronti di Perez perché altrimenti se perde il DRS non c'è più contatto praticamente e rischia davvero di vedere rovinata la sua gara. Siamo a un secondo e tre vediamo se riusciamo a riprendere il gruppo ma sta soffrendo veramente tanto Lando Norris anzi sto pensando addirittura con lui di provare una strategia diversa ossia di montare veramente la hard magari un po' presto e provare a farlo spingere per magari trovarsi comunque nel gruppo spingere in anticipo e trovarsi nel gruppo quando gli altri si fermeranno il rischio è solo quello di trovare traffico deve cercare di stare davanti all'Aston Martin all'Aston Martin di Guan Yu Zhou in tredicesima posizione nuovo giro veloce per Lando Norris che si è andato a riprendere si è andato a riprendere il DRS nei confronti di Perez quindi con Norris spingiamo e nel caso andiamo a montare la hard mentre con Leclerc che si prende ora la prima posizione andremo a montare la media visto che poi si andrà alla pioggia direttamente e quindi potremmo vedere sbloccata diciamo la strategia che prevede due gomme di diversa mescola Verstappen è il primo a fermarsi ai box per lui potrebbe essere teoricamente una strategia a due soste però si ferma molto presto quindi cominciamo a spingere un po' di più con i nostri due piloti perché possiamo comunque forse con Leclerc dobbiamo spingere un po' di meno perché lui ricordiamo se deve fare circa 20 giri con un treno e 20 giri con l'altro vediamo Verstappen in che posizione riesce a rientrare forse addirittura nel gruppo Verstappen nel gruppo quindi bloccato dal traffico Verstappen perderà tanto nei sorpassi quindi con Norris è importante continuare a spingere rimanere incollati a questo gruppo purtroppo si trova dietro Gasly con Leclerc che ha passato Russell e si trova ancora una volta alle spalle di Carlos Sainz e ai box anche Russell Hamilton Fett e Leocon tutti questi secondo me sono con una strategia a due soste a questo punto perché il P-stop è troppo presto dovrebbero fare 42 giri con la gomma hard io penso che loro siano sulle due soste comunque se fosse asciutto però penso che riescano tranquillamente ad arrivare nel periodo di gomma hard se dovesse servirli Norris prende la quinta posizione si trova alle spalle di Gasly pian piano si andranno a fermare tutti e cercheremo naturalmente di far spingere al massimo Norris per rimanere incollato al DRS del compagno di squadra visto che penso che Leclerc sia quello che vada un po' più lungo rispetto a tutti gli altri dobbiamo cercare di guadagnare in questa fase di gara perché tutti coloro che si sono fermati si trovano nel traffico settore 1 bandiera gialla siamo entrati nella finestra di sosta per i nostri due piloti bandiera gialla che non significava nulla Magnussen ha allargato la traiettoria Verstappen sta perdendo molto tempo con Norris ci fermeremo non alla fine di questo alla fine del prossimo giro ci facciamo ancora tirare un po' dal DRS anche se stiamo perdendo veramente tanto e stiamo consumando molto carburante quindi dovremmo andare a gestirlo soprattutto nelle fasi di pioggia Leclerc intanto è ancora in prima posizione sta gestendo molto bene la sua gomma Sainz soltanto ha una gomma un po' migliore infatti va al sorpasso Carlo Sainz ma va benissimo così con Norris sempre in quinta posizione vediamo con Lando appunto di fermarci alla fine del prossimo giro ancora ci facciamo tirare un po' da questi piloti vediamo se si ferma qualcuno nessuno si ferma quindi ancora un altro giro e alla fine del giro Lando Norris si ferma vediamo in che posizione in quattordicesima dovrebbe rientrare quindi alle spalle no davanti alla Tifi forse alle spalle di Tsunoda speriamo in un pitstop veloce da parte dei piloti scusate dei nostri meccanici però saremo comunque alle spalle di Verstappen molto probabilmente gomma hard direi per Lando Norris potremmo anche rischiarcela però la gestione di Lando è un po' più complicata quindi andiamo con la hard con Lando Norris e cerchiamo di gestirla il più a lungo possibile mentre con le Clerc andiamo ancora un po' lunghi visto che è ancora in prima posizione e poi monteremo un altro treno di gomme medie per cercare naturalmente di arrivare poi al periodo di pioggia con una gomma più prestazionale Lando Norris rientra in box e segue Sainz e Perez quindi stessa strategia per noi dei piloti della Ferrari e della Red Bull rimangono solo Leclerc e Gasly con Leclerc che può cominciare a spingere un po' di più probabilmente soprattutto sul carburante il pit stop effettuato da Norris che perde tanto tempo però per via dei pit stop dietro di lui no Perez e Sainz hanno un po' creato un po' di problemi peccato peccato perché abbiamo perso qualcosina vediamo in che posizione riusciamo a rientrare con il nostro pilota purtroppo no attenzione proprio in lotta con Verstappen e con un Aston Martin che peccato che peccato andiamo a spingere andiamo in equilibrata cerchiamo di mantenere il DRS mentre Sainz e Perez sono ampiamente davanti a Verstappen che ha perso tanto tempo spingiamo al massimo ora con Charles Leclerc spingiamo ora al massimo e lo facciamo fermare tra 1-2 giri proviamo a spingere ora e cercare di rimanere davanti a tutto questo gruppone giro box ottimale per Charles Leclerc che si fermerà alla fine del giro e andrà a montare un altro treno di gomme medie ce la rischiamo così noi con questa strategia un po' diversa visto che è prevista la pioggia Lando Norris intanto è riuscito a liberarsi di una dell'Aston Martin perché si è fermata i box siamo a un secondo da Magnussen dobbiamo cercare di spingere per riprenderci il DRS nei confronti dei piloti là davanti perché Verstappen ha passato Sainz ma dobbiamo cercare di mantenerci in scia e avere il DRS proprio per non perdere il treno mentre Leclerc continua a spingere al massimo prima del suo pit stop Leclerc ai box va a montare la gomma gialla quindi teoricamente non arriva in fondo ma noi abbiamo guardato il meteo attenzione perché è importante qui cercare di stare davanti a George Russell che in seconda posizione dovremmo essere ampiamente davanti a George Russell con un passo probabilmente migliore soprattutto in questa prima fase grazie a questa strategia diversa dobbiamo togliere il DRS immediatamente dobbiamo andare a spingere mentre Norris fa il giro veloce e va a passare una ass quella di Magnussen giro veloce con Leclerc che purtroppo si trova subito attaccato a Russell quindi con Leclerc andiamo in standard in equilibrata ricarichiamo la batteria e poi naturalmente proviamo a spingere al massimo per scappare via con Norris che deve cercare di tenersi alle spalle di Verstappen e di Carlos Sainz che stanno rimontando nei confronti di Gasly Perez e Russell attenzione attenzione perché Leclerc è riuscito a ripassare Perez nella zona DRS dopo che era stato passato e Perez ha perso il DRS quindi può essere il momento in cui Leclerc fa la differenza lo lasciamo in neutro teoricamente con la solo vantaggio della gomma gialla in questo momento dovrebbe riuscire a guadagnare nei confronti di Ceco Perez con Norris che si è preso la sesta sta passando Verstappen e sta cercando di andare a riprendere Sainz vediamo di rimanere alle spalle di Carlos Sainz Norris che ha un po' di carburante sotto è un po' negativo sul carburante ma va bene così lo gestiremo durante le fasi di pioggia con Leclerc è importante cercare di fare il nostro passo e provare a scappare via la pista si sta illuminando è già bagnato è già bagnato si stanno già fermando i box è arrivato improvvisamente la no forse abbiamo sbagliato il tempismo si sono fermati tutti dobbiamo spingere al massimo è arrivato improvvisamente il dato di pista umida avrei spinto molto di più sta arrivando molto prima del dovuto la pioggia e purtroppo siamo già in periodo di bagnato rischiamo di perdere veramente tantissimo è arrivato in maniera completamente improvvisa boxing di slap con entrambi i nostri piloti per montare la gomma intermedia attenzione perché rischiamo di perdere tantissimo nei confronti di coloro che hanno montato l'intermedia gas lever stop in science eccetera stiamo spingendo tanto la pista è umidissima ora la pista è umidissima è arrivata in maniera completamente improvvisa questa pioggia non me l'aspettavo sinceramente inizio della pioggia sto pensando di rischiarla andiamo a fermarci la rischio con entrambi ormai è una gara in parte rovinata ma voglio rischiarmela andiamo a montare la full wet direttamente perché la pioggia continua ad aumentare montiamo la full wet con entrambi i nostri piloti purtroppo questo giro in più ci ha fregato nettamente ma la pioggia continua ad aumentare quindi voglio provare a montare la full wet direttamente e vediamo se questo può darci un vantaggio rispetto alla montare l'intermedia ora la pioggia continua ad aumentare e dovrebbe essere pesante per una buona parte di questa gara ora quindi vediamo se riusciamo a riguadagnare qualcosina grazie a questo pit stop direttamente su gomma full wet è l'unica soluzione per provare a riprendere per i capelli questa gara attenzione si fermano Gasly e Verstappen stavamo perdendo tantissimo ma alla fine la pioggia intensa è arrivata me l'aspettavo da un momento all'altro alla fine è arrivata e abbiamo fatto jackpot perché abbiamo fatto un pit stop in meno sostanzialmente abbiamo perso qualcosa Leclerc alle spalle di Sainz che però monta l'intermedia in questo momento sta guadagnando Leclerc perché la pioggia è proprio nel punto in cui c'è il crossover tra intermedia e full wet naturalmente Sainz ha un vantaggio che potrebbe permettergli di rimanere fuori ma si sono fermati tutti e se continua ad aumentare è molto molto probabile che avremo il vantaggio Leclerc in seconda posizione purtroppo Norris ha perso talmente tanto che comunque si trova alle spalle di Verstappen e di Gasly che avevano montato l'intermedia però con Leclerc abbiamo sicuramente fatto jackpot e continuiamo a spingere al massimo su questa gomma 18 giri al termine della gara Sainz ha deciso di non fermarsi Perez invece si ferma ai box quindi va alle spalle di Norris che guadagna un'altra posizione Sainz con l'intermedia ma sta perdendo tantissimo però lui potrebbe decidere insieme a Russell e Alonso di rimanere fuori e provare con Norris intanto andiamo in conservativa per recuperare quel po' di carburante che non abbiamo perché siamo in negativa Ron Norris ha passato Russell loro potrebbero decidere di rimanere fuori noi dovremmo fare un altro pit stop molto probabilmente perché alla fine della gara sarà nuovamente tempo da intermedie quindi noi ce la giochiamo con tutti coloro che hanno montato la full wet ora gomme che sono molto calde quindi andiamo in aggressivo con entrambi i nostri piloti andiamo in aggressivo e continuiamo a spingere Leclerc a breve secondo me dovrebbe andare a riprendere Sainz perché li sta guadagnando veramente tantissimo e Sainz alla fine si ferma non poteva rimanere fuori troppo a lungo e quindi ora ce la stiamo giocando con Leclerc in prima posizione secondo me era più furba la strategia di non fermarsi per i piloti che montavano l'intermedio Russell continua Verstappen seconda posizione con gomma piuttosto nuova ma si trova a quasi 10 secondi da Leclerc che ha un vantaggio immenso in questo momento e Norris in quarta posizione che secondo me se continua così potrebbe anche andare a riprendere Gasly perché sta forzando e sta riuscendo pian piano a rimontare però dobbiamo andare anche in accumulo un po' sulla batteria no possiamo andare in neutro lasciamo in neutro e poi provvederemo più avanti a provare a recuperare vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcosa nei confronti di Gasly Norris ha due secondi di retardo da Gasly e due secondi di vantaggio nei confronti di Sainz e si rifermano si rifermano tutti attenzione perché è momento di montare l'intermedia dovevo farlo prima anche stavolta probabilmente ma va bene così non dovremmo perdere troppissimo in teoria boxing di slap con entrambi i nostri piloti stavolta faremo ugualmente double stack e andiamo a montare l'intermedia perché la pioggia sta già calando e siamo già sotto il limite dei 4 mm che vuol dire gomma intermedia Charles Leclerc rientra in pit lane per il suo pit stop vediamo se riesce dovrebbe riuscire a stare davanti comunque ad Alonso Alonso che si sta giocando la vittoria perché è rimasto con l'intermedia teoricamente dovremmo riuscire a stargli davanti con Norris invece ci stiamo giocando una posizione quasi sul podio anche se forse non riusciamo a tenerci quella posizione Leclerc vediamo con Alonso che è lontano Alonso è molto lontano Leclerc rientra tranquillamente in prima davanti a Sainz che però non si è ancora fermato Sainz ancora non si è fermato no Leclerc è alle spalle di Sainz Leclerc è alle spalle di Sainz batteria RS scarica quindi andiamo in aggressivo e in equilibrata con Leclerc con Norris che rientra subito alle spalle di Gasly quindi non ha perso tanto andiamo in aggressivo e continuiamo a spingere in neutro sulla batteria ma continuiamo a spingere un po' sul carburante con Norris siamo sempre a due secondi circa da Gasly ed eccolo Leclerc che è pronto al sorpasso nei confronti di Sainz che è troppo lento ora con la gomma full wet e va al sorpasso vediamo di andare in potenza per provare a effettuare la staccatona da parte di Charles Leclerc mamma mia che rischio esce bene comunque Sainz ancora non c'è poca pioggia ma ce n'è ancora un po' che questo aiuta nella trazione con la full wet ma stavolta passa stavolta passa Charles Leclerc e ora andiamo subito in standard e cominciamo ad andare anche in accumulo sulla batteria per provare a rimettere carica che ci può servire più avanti nella gara quindi Leclerc nuovamente in prima con Norris in sesta che piano piano sta andando a riprendere Gasly però andiamo in equilibrata perché abbiamo troppo poco carburante allora Norris è riuscito a riprendere i piloti davanti a sé Verstappen Sainz e Gasly che sono in lotta per il podio attenzione perché non abbiamo carburante non abbiamo batteria ma spingiamo ancora sulla sulla gomma proviamo a rimanere là anzi andiamo in standard ora proviamo a rimanere in zona con loro comunque sperando che magari si riattivi il DRS che ci possa aiutare comunque ora abbiamo Gasly e Sainz con alle spalle subito un doppiato stiamo cercando di consumare quanto possibile la gomma secondo me la strategia di Sainz a questo punto che è molto lento attenzione all'attacco di Norris nei confronti su Gasly purtroppo Verstappen se ne è scappato via dopo il sorpasso e ora rischiamo di perdere veramente tanto tempo alle spalle di Sainz la strategia di Sainz era quella secondo me di andare a montare direttamente la slick ma non gli sta andando assolutamente bene a meno che non ci sia proprio alla fine la possibilità di cambiare la gomma ma sta perdendo talmente tanto tempo purtroppo anche Norris sta perdendo veramente troppo tempo Sainz si difende con le unghie con i denti stavolta forse riesce ad uscire più forte il nostro pilota che si può prendere la quinta posizione ma è veloce nonostante tutto sul dritto la vettura della Ferrari e purtroppo Gasly se ne è riandato Gasly se ne è riandato e anzi siamo ora quasi tre secondi da Pierre Gasly quindi ormai direi che non c'è più possibilità per il nostro pilota di andare a riprendere una posizione più elevata della quinta dobbiamo cercare di passare Sainz che però sta continuando a fare da blocco con Leclerc che ha 10 secondi e 7 di vantaggio su Alonso che ancora si sta difendendo nei confronti di Verstappen nonostante abbia un'intermedia veramente molto molto consumata Norris finalmente c'è riuscito ad effettuare il sorpasso per la quinta posizione ora andiamo in equilibrate dobbiamo cominciare semplicemente a gestire non abbiamo batteria praticamente ma non possiamo a 6 secondi e mezzo di ritardo da Gasly ha perso 3 secondi a giro alle spalle di Sainz e non è riuscito ad effettuare il sorpasso nonostante la differenza di mescola peccato mi dispiace per Lando Norris mentre Leclerc continua a scavare nei confronti di Alonso anzi possiamo metterci in standard a questo punto e cominciare ad essere un po' più tranquilli nella gestione con il nostro pilota monegasco e la pioggia è riaumentata praticamente di botto eravamo quasi in zona di poter pensare e alla fine ritorna a essere full wet e forse è stata questa la strategia di Sainz ma ha perso veramente troppo tempo cioè volendo con Leclerc potremmo andare a rimontare la full wet è di nuovo pioggia è di nuovo pioggia e quindi forse ci fermiamo con Charles Leclerc andiamo a fermarci però abbiamo già passato la zona box attenzione vediamo se si fermano gli altri se si fermano gli altri però abbiamo 17 secondi di vantaggio nei confronti di Alonso andiamo a spingere al massimo perché secondo me possiamo davvero pensare di andare a effettuare il pistop e stare davanti ad Alonso mentre con Norris a questo punto continuiamo così a questo punto con Norris continuiamo così anche se si fermano là davanti non mi è sembrato comunque che si sia fermato nessuno ma in questo momento sicuramente Sainz ha nuovamente un vantaggio sulla gomma montata anche se ha tanta usura su di essa io direi con Leclerc di fermarci dovremmo teoricamente riuscire ad effettuare il pistop anche se ci dice quarta posizione è un po' un rischio vediamo come cosa mette la pioggia mi fermo torno un attimo indietro nella schermata perché dobbiamo decidere se effettivamente andare a montare la gomma però è un rischio continuiamo questo giro poi valutiamo se si fermano loro poi ci rifermiamo abbiamo 18 secondi di vantaggio quindi non ha senso andare a rischiare di fermarci poi magari loro non si fermano diventa un po' un caos la gara siamo ancora al limite comunque si è meglio la full wet in questo momento ma siamo ancora al limite ma se non si fermano lì dietro è probabile che possiamo pensare di continuare altrimenti ci fermiamo alla fine del giro mentre con Norris è molto probabile che continuiamo comunque perfetto abbiamo fatto bene a non fermarci la pioggia è già terminata quindi andiamo in aggressivo e in equilibrata con Leclerc continuiamo a gestire così quindi praticamente la strategia di Norris di Sainz e di Russell ha funzionato per pochissimo per pochi giri non ha avuto senso arriviamo alla fine della gara tre giri alla fine anzi due giri e mezzo e Charles Leclerc ultimo giro del pilota in testa ma siamo già alle ultime curve risponde così dopo il brutto risultato dell'ultima gara con un DNF seconda vittoria intre gare Charles Leclerc vince il Gran Premio d'Australia su Max Verstappen uno splendido Pierre Gasly in terza posizione con un Lando Norris che sta andando a completare la gara in quinta posizione vediamo un po' ed è finita vince Charles Leclerc davvero incredibile dopo una gara del genere ha ampiamente meritato il suo giro d'onore è stato senza dubbio il weekend di Charles Leclerc vedere il proprio pilota sul podio è il sogno di tutti coloro che animano la Formula 1 oggi il pilota Monegasco ha dimostrato quanto vale con una prestazione pazzesca è stata una battaglia per tutti ma alla fine sono loro tre che portano i punti più preziosi alla squadra un ottimo piazzamento per la McLaren si hanno scelto un'ottima strategia che alla fine ha dato i suoi frutti non vedo l'ora di scoprire che cosa si inventeranno adesso dopo un weekend di emozioni la squadra è al primo posto della classifica costruttori adesso le squadre dovranno pensare a Imola dove è in programma il nuovo gran premio dell'Emilia Romagna la gara promette molte scintille ancora un ottimo risultato risponde benissimo Charles Leclerc all'ultima gara vittoria e giro veloce no 26 punti ah il punto per la pole position mi dimenticavo sempre è vero quest'anno c'è il punto per la pole quindi 26 punti per Charles Leclerc Verstappen e Gasly a completare il podio poi Alonso splendido quarto Norris in quinta Perez in sesta Magnus in Sainz o Conor Russell Ferrari ancora una volta indietrissimo per via di una strategia pazzesca davvero pazza completamente pazza naturalmente si tratta della Ferrari poi fuori dalla zona punti Fettel Hamilton Bottas Zunoda Latifistrol Ricciardo Guaniugio Walburn e Mick Schumacher classifica piloti Leclerc si riprende la vetta Leclerc 52 Verstappen 50 Norris in terza a quota 43 punti Russell 36 Gasly in quinta a quota 26 classifica costruttori McLaren 95 allunghiamo nei confronti di Red Bull più 22 Red Bull 73 Ferrari 52 punti Mercedes settima a quota 9 punti decaduta la Mercedes ed ecco c'è la nostra dashboard abbiamo un messaggio importante modifiche tecniche minime per il voto quindi oggetto del voto flusso centrale riduzione resistenza del meno 30% flusso centrale riduzione resistenza e flusso anteriore quello era per il telaio per le pance laterali tutto al meno 10% oppure queste modifiche orientate al telaio altrimenti le modifiche orientate alle pance laterali ora per quanto ci riguarda dobbiamo andare nella schermata dell'auto e andiamo a vedere subito i nostri componenti perché i nostri componenti teoricamente vista la posizione in griglia il nostro telaio è in media all'ottavo posto diciamo così come caratteristiche mentre le pance laterali dovrebbero essere molto ma molto più indietro teoricamente andiamo a vedere posizione in griglia si qualcosina di più quindi forse per noi ci conviene visto che siamo molto indietro con le pance laterali andare con la modifica corposa nei confronti delle pance laterali perché così potremmo concentrarci sullo sviluppo di quello mentre il telaio è un pezzo un po' migliore e quindi quello è meglio mantenerlo buono quindi andiamo nelle email e andiamo modifiche orientate alle pance laterali per quanto ci riguarda e confermiamo e proseguiamo nel calendario siamo già alle sessioni di prove e non ci ha dato il voto finale c'è stato l'esito del voto ma non c'è stato dato alcun forse qui allora vediamo ricerca componenti sbloccata per la prossima stagione però andremo più avanti a ricercare teoricamente potremo anche non ricercare per la vettura della passata stagione visto che è l'ultima stagione della carriera ma voglio renderla un po' più reale proprio concentrandoci anche sullo sviluppo naturalmente se quest'anno siamo in lotta per il campionato ci concentriamo tanto per vincere il campionato quest'anno ma faremo anche qualche ricerca come nella realtà anche per la prossima stagione condizioni del punto accoglienza scadenti modifiche del voto voto favorevole per le modifiche orientate al telaio e spareggio purtroppo le modifiche sono orientate al telaio grazie al voto dello spareggio eravamo 5 a 5 anteprima gara preparativi pre gara quindi con questa gara abbiamo terminato ragazzi se vi è piaciuta ricordatevi di lasciare un like per supportare la mclaren commento qui sotto col vostro pronostico se volete naturalmente se vi aggrada del gran premio di immola ovviamente se non siete iscritti al canale come sempre vi invito a valutare l'iscrizione e nel caso attivate le notifiche cliccando sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti detto questo io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo episodio sul canale ciao e l'ars ciao ciao ciao